Allora, quanto è importante questa struttura per le Marche? Importantissima, era importante 50 anni fa quando è nata con l'idea di avere un istituto di ricerca che riguardasse l'inziano, dopo 50 anni l'importanza è diventata esplosiva, nel senso che oggi la gestione dell'invecchiamento, fatto con qualità, con servizi di livello, è un po' il cuore, il centro dell'interattività sanitaria. È un fatto molto importante che si vive di più, ma abbiamo bisogno di vivere bene. E avere nelle Marche un istituto che si occupa in termini di ricerca proprio di questo, significa avere un istituto che si occupa del cuore dei problemi della sanità. Una visione che va oltre la dimensione delle Marche, che arriva in tutto il paese, in tutto il mondo, perché la domanda che il mondo si fa è come gestire al meglio questi servizi, che significa assistenza, ricerca, tecnologie, economia, perché attorno a un mondo che cambia c'è anche un'economia che si può sviluppare. Avere nelle Marche questo istituto significa avere una grande opportunità. Anche da noi, come in gran parte d'Europa e in gran parte d'Italia, si vive a lungo. Sono tantissimi, ad esempio, gli ultracentenari. Dobbiamo fare in modo di avere di fianco a questo invecchiamento tutti gli strumenti per gestire al meglio la risposta che le persone che vogliono vivere a lungo vogliono vivere bene.